Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video, siamo tornati su Mario Kart A sto giro ci siamo fatti finalmente un intro completo, no ragazzuoli, siamo... Sì, anche perché quando tu hai detto salve a tutti, ho detto vai vai puoi andare, quindi intro al top Al top, non lo so, la lascerei io, ti dico la verità, la lascerei Va benissimo così, tutto più real, tutto naturale Quindi, l'avrete capito, siamo qui con Tuberanza e Joseph TheGamer, ciao ragazzuoli Dai raga, dai raga, vai così Devo difendere il titolo, devo difendere il titolo Allora, io quest'oggi invece volevo annunciare una cosa, cioè la rottura ufficiale di qualsiasi alleanza Quindi, nel momento in cui avrò un guscio, qualsiasi cosa, io attaccherò chiunque, ve lo dico Ok, ok, quindi mi pare di aver capito che se fai questa scelta sei abbastanza sicuro delle tue capacità E sai di non aver più bisogno di una spalla, mi fa piacere, sono contento Esattamente Eh Mirko, ma Tube, questo è un tradimento eh, se posso permettermi No, perché tradimento? L'ha detto, non è che mi ha tradito, l'ha detto Eh, lo so che te l'ha detto, ma è l'azione, quella grave, capito? Cioè, quello sta facendo Il tradimento è quella cosa che tu fai all'insaputa del prossimo, invece lui me l'ha detto No, io l'ho detto, ti faccio un esempio, ti faccio un esempio Guarda, nonostante lui ti abbia tradito, continui a difenderlo, sei il peggiore Infatti lo dice, ma... Io non ho tradito nessuno, cioè, allora, ho detto Visto che il trono, una volta, una volta poi, tre volte se l'è piato Joseph, un altro po' E comunque Mirko se l'è preso Usatevi, che bella cosa Usatevi, non vorrei interrompere questi discorsi bellissimi, ma è capitata la pista arcobaleno Ahia, mamma mia, vai Io non voglio... Oh, comunque tutti e due con nuovi setup, eh Anche io Fermi qui No, 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 no Guardi, Gianfra, sei sempre tu Eh, ma sono stato giù tanto, cioè Ho fatto troppo, ho turbato troppo, quindi... E porco demonio! No, regalo, sta vista, non sono proprio capace No, dai Fai così, mi piacete, ragazzoni No, non ho visto la malissima Mi carpa tantissimo Ma che, ma sta giù, sei in prima posizione È ovvio che sia primo, però, ma che domande prima Va bene, dai, va bene, ristabiliamo le alleanze No, guarda, già qua, sei il peggiore, bro Ristabiliamo le alleanze, Kirko Grazie, Ken, davvero il peggiore No, ragazzi, io non sono capace, io qua purtroppo Cioè, ogni volta che c'è sta sta cosa, per me è... È la sconvitta matematica Eh, vabbè, bro No, no Non ce la faccio Cosa vuoi farci, perdonami, va così Eh, no, vabbè, ci sta, ci sta Guarda, chi è che aveva lasciato quel bananozzo Cos'è che ti dico, bro? Dracarys Ma che, oh, che... Ancora, mo, ancora Non è possibile, no, 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 muovi scanso tutto Ciao, bro No, no, guarda, è il peggiore, sempre lui Non è possibile Eh, vabbè, bro, ho capito Va bene, va bene così Nessun problema Ho preso... Ho preso le misure di questa pista, eh Ma che ho preso le misure che sei caduto dieci volte Eh, ma che ho preso le misure, è finita la festa Ma che ce la faccio Orco demonio, porco demonio Vai così Non ho appoggiato Oh, porco per quanto non mi hai preso, bro Nono male che non so caduto È che ho preso... Che prima e che secondo? Ah, ecco Vai, vai, vai Aspita, guarda dove sono Guarda come ho preso Si va a chiappo, si va a chiappo Madonna, vi state litigando il posto Vai, vai, vai Vai, va a chiappo No No Ti prego Fatti bene queste curve Mio caro Link non mi deluderemo Fatti bene queste curve Non mi deludere adesso Link No No ragazzi no Non potete che ho sbagliato Che male clamoroso ho fatto Blanzi primo Blanzi primo Sono arrivato primo ma davvero Blanzi primo Ragazzi che errore clamoroso ho fatto No Come è possibile che sia arrivato primo Perché io sono andato di giù Allora io ho messo la caduta in diretta La caduta di tube in diretta È stata incredibile Ragazzi ma Blanzi primo non è possibile Cioè per me è inaccettabile No ragazzi Ho perso in una maniera atomica proprio Ma che è successo Allora ti spiego Allora io avevo due gusci rossi Ho lanciato il primo a Joseph E l'ho mandato a lato E quindi era già andato Ieri ero primo Avevo vinto proprio già la corsa Io avevo un altro guscio rosso Che potevo tenere a protezione E qualora mi avesse passato qualcuno Lo avrei utilizzato Il problema è che mi sono Incarbugliato con i tasti L'ho lanciato E non l'ho derapato Ah Bene così Cioè l'ho fatto un casino totale Questa volta Blanzi si deve togliere Perché No no Però non mi tolgo proprio niente Ti devi togliere tu da qua davanti Ne hai capito che il trono lo voglio io a sto giro E che si sono rotte le alleanze Il trono sarà mio Dai 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 Via via Questa è la corsa mia Te lo dico Questa è proprio la pista mia Ma no Guarda che già che prima Sei arrivato primo Io sinceramente Ragazzi Non ho parole proprio Io sono andato di Io sono caduto di nuovo Cioè oggi proprio Questa stavo a dire Questa non è però la pista di Mirko Non è per nulla La pista sua Ottimo ottimo Vediamo vediamo No in realtà questa è la mia pista Perché qui mi sento Molto Molto performante Però Guarda guarda Blanzi Che ancora dietro non si toglie Giosef Ti sto mettendo nel mirino Tu non l'hai capito allora No no Ti ho visto che c'avevi qualcosa in mano Ah Prendilo Blanzi Prendilo Ma cosa prendilo? Di cosa stai parlando? No Nel libro mi stupo Oh prendilo Prendilo Blanzi Però Attenzione Perché potrebbe essere Scusami Potrebbe essere No Saranno cose vostre Non mi intrometto Però effettivamente È un po' Beh si effettivamente Potrebbe essere Una cosa un po' Guarda per quanto Non è caduto Ho sbaglio Stai a cadere Giusef? No Anzi Ah no ok T'ho visto No Acchia Come hai fatto a non beccarti Quei guscio rosso? No Madonna mia Gianfra No Uuuu Sì io sono No Gianfra come te lo sei scansato Mi ha colpito a me Da solo Mi sono colpito Ma cosa gli sei colpito da solo? Non ho capito Non ho capito nulla Ho lanciato un guscio Blu Vabbè sto zitto che è meglio Secondo me Bravo bro Guarda sto Giusef maledetto Che non è Giusef ma tu hai Appollena Trocchi Un'altra volta Te ne stavi andà Appollena Trocchi Ci fai sempre tu Esatto Adesso Adesso Appollena Trocchi Oh per quanto non sto a cadere Stacara comunque Sto proprio rischiando Ma no No so caduto Bella Giusef Bellissimo È proprio quello È proprio questo Che voglio sentire Perché qui Ma tu Oh mio Dio No Vai No Vai Secondo Meno male Sono arrivato a Erza No Avevo visto il primo posto Madò chi è quello Che mi ha beccato Oh ma io sono terzo Nella classifica Madonna che finale Mi sono cagato in mano Regà Mi è arrivato un guscio blu Sul Proprio sulla linea perfetta No Oh c'avete entrambi la corona La corona entrambi Chi è che non ha la corona Va bene va bene Va bene Giuseppe lo spazio tempo Posso dire una cosa Vi sto dando un po' di vantaggio Altrimenti che spizio c'è Perdonate Sì sì Attento Giuseppe Tra poco ti recupera Roy Ma che Ma che è Roy Che sta a fianco C'ha 16 punti No vabbè No voi dovete rivedere Comunque la mia visuale Ciò che ho visto io Nel mio gameplay Cioè è stato E lo vedremo Vai 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 Viva la nanza Peplu pazziatore Guarda 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 Va bene va bene Vai a curvo parecchio Anderro Vai Ragazzi Gianfranco ormai Si è completamente sdoganato No Guarda Vai 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 Oh io la posso fare C'ho la moto No per quanto Pazziatore Mannaggia la miseria Gianfranco Ciao Giuseppe Stami bo No Sei sempre tu sei Ma com'è possibile Che fai Sei caduto no Eh si sono caduto Buah ma non è possibile Si è messo veramente Dove sembra che non si possa cadere Queste sono tutte le spighe Che mi manda Tube Impossibile Che roba Che sta la Tube Sei sempre tu Guarda come sta primo Tube Guardalo No Vabbè ma ragazzi ma Tube oramai è È l'uomo da battere Cioè non è che State parlando di Pinko Pallino Con le scarpe rotte Di gomma Pinko Pallino con le scarpe rotte Oh ma cos'è che sta arrivando Ma che bello Vedo qualcosa di interessante Bello bello Oh yes Oh yes Me lo son visto proprio arrivare di fianco Quello Questo dovete arriva Landazzo è simpatico No Per quanto Oh Mirko Mamma sto E vabbè scusami Blazi Sei tu quello che ha detto Che le alleanze erano finite O sbaglio Sì 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 Va bene va bene Sì sì La voglio Ho chiappato qualcuno no Assurdo Ho combinato Ho combinato Ho combinato Sta gara ce l'avevo in mano Vai 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 Nulla è finita Blazi secondo me in mano Non c'avevi la gara Eeeh Vai vai Faccio vedere io Faccio vedere io Minuto Da Mamma mia ragazzi Sto pennellando delle curve Che boh Penso che potrei andare Tranquillamente in moto GP e battere Mark Merdez No Vai No Giuseppe sei una merda Sei una solita me Dai 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 Corri 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 Non mi deludere Guarietto non mi deludere Vai Oh ma che palle Ragà ma c'è Ma almeno un po' di No banana di merda No Ragazzi mamma Lo possiamo mai per vincere così Oh è arrivato secondo Roy Bro te l'ho detto prima Che mo ti recuperavo Roy Non è possibile Roy Attento eh Ma questo Roy arriva Attento Riva prima di me Gianfranco Non ci credo Qui veramente è diventato tuberanza Da battere Assurda sta Roy Ma ragazzi ma oramai c'è Ma lì perché la pista al corbaleno L'ho persa malamente Perché se no regà Avevo già 60 punti Ma io perché ho cambiato setup Perciò ti sta andando così bene Ma anche io ho cambiato il setup Che cara è la seconda o la terza La terza o la quarta Questa è la La quarta Questa è l'ultima corsa Attenzione Allora regà Facciamo questa scommessa Se Roy Batte Joseph Non lo so Faccio una delle Mi faccio i capelli Bianchi Oh La scommessa la faccio eh Stai zitto che è meglio Se no mi faccio battere apposta Eh Eh no vabbè Qui rischia perché Giuseppe Giuseppe Le paste cose Giuseppe Ti piace? Ma mamma mia Non è possibile Non è possibile La prima posizione Tu non la devi neanche No cazzo No Guarda Chi è stato È stato Roy Che cosa è successo Che cosa è successo L'azuzzi Ma non ci credo Mi ha buttato il guscio Giuseppe Lo sapevo tu beh E vabbè bro Beh che cacchio Dove li metti di fianco Eh Vediamo se taccia Ma quando taccia Pazzia Eh dai Vai così Vai 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 Mi carta Ma dietro Pazzia Torna dietro Blazzi ma non vuoi capire Che è così Stai facendo Una cosa sbagliata Cioè come devo far capire Devo far vincere a te Non ho capito Meglio che vince Milko Piuttosto che vinci tu Meglio che vince Milko E poi si permette pure Di dire che sono finite le alleanze Ma sono finite le alleanze Se proprio devo scegliere Se proprio devo scegliere Cioè ragazzi Ma questi sono gli amici Vi rendete Ma guarda Se si toglie Eh Giuseppe Fai vinto già troppe corse Per favore Vabbè Oddio Sai che forse A parità di cose Penso di averne vinte Di più io Ma stai zitto Ma che dici Guarda Chi è che si è permesso Ma nessuno dei due Si è beccato quel coso Ma come è possibile Va bene Va bene No regà No Dovevo acchiappare Oh finalmente Giustizia è fatta Vai 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 Finalmente Giustizia è fatta E mi piglio pure sto coso a terra Vai così Bravo Giuseppe Salutami Guscio blu Guscio blu Guarda questo che si mette Non vi ho preso Ma chi è Continuando Beccati questo Bel guscione Bello bello Come è bello No so caduto Va bene Guarda questo Dai bro Ma addirittura Ti permetti Scusa come hai fatto a cadere E tornare già Eeeh Sono i miei trucchettini No vabbè Che scherzo Cioè avevo il coso rosso lì Come si chiama Ma perché le banane Ma vaffancapa Non ci credo E' meglio una banana che ho just E' l'amico mio Senti a me E vabbè Eh vabbè Annaggia miseria Vabbè ragazzi Non è possibile Questa cosa Che Mirko Arrivo primo No No Allora è una banana qui E' una banana qui Vediamo chi la prende Niente da No Ditemi che non è Sono dispiaciuto per Roy Cazzarola E' finita qua Ce la poteva fare Roy No E' finita qua Sono arrivato sotto a Joseph Dai Ma perché sempre Sempre terzo Ma perché Però ragazzi Io se posso dire una cosa Per me quello che è successo oggi E' inaccettabile Che è successo Ma sempre sta cosa di bronzo Io vedo Sto Ma Già vai Famoso eterno bronzo Ragazzi Ma questa coroncina Oramai I programmatori di Mario Kart Hanno preso proprio La forma della mia testa Perché sanno che comunque Si poggerà sempre Sulla stessa capoccia Capito Non ci sto Non ci sto Va bene Va bene Comunque Vi dico Io mi rifarò Mi rifarò nei vostri canali Mi rifarò prima o poi Con la corona Me la piglio Me la piglio assolutamente Allora Allora In realtà Joseph dice È inaccettabile È inaccettabile Ma tutto sommato Io e Blaziken Non ci siamo risparmiati Nessun tipo di trattamento Perché nella corsa Nella seconda o terza Quando io avevo un guscio rosso Gliel'ho tirato Cioè quindi comunque Le alleanze sono finite Giuseppe Ma il fatto che tu stia perdendo Corsa dopo corsa Non è un problema di alleanze È un problema di Proprio che Cioè Ti stiamo sorpassando Forse No Allora Non parlare pure per tuberanza Tu non c'entri niente Cioè Perdonami Eh ma attenzione Perché quel giorno Che Blazzi Ti arriverà in gapa Arriverà Perché quel giorno Sarà la fine La tua fine Sarà la fine La fine su YouTube Va bene Allora Mi avete lanciato una sfida La accolgo Ci sto Ci sto Ragazzoli Che dire Ci siamo divertiti Lascio a voi un attimino i saluti E poi ci vediamo Nei vostri canali Devo venire Venire a prendermi lì la corona Allora Io lascerò iniziare Joseph Perché è l'eterno sconfitto Quindi vai L'eterno sconfitto Forse hai dimenticato Cos'è successo sul mio canale Nel mio ultimo video Ma lasciamo perdere Probabilmente non registriamo Da un po' L'hai dimenticato Ragazzi Ragazzi E' andata così Ma il bello della vita è questo Si vince si perde Ma poi Chi vince Ritornerà a vincere Ricordiamoci che sono il più fortunato al mondo Questo è Questo non lo diceva Confucio Ma lo diceva Joseph the Gamer Così Le massime Comunque ragazzuoli Vi saluto anch'io Un bacione E' sempre un piacere Giocare con voi E divertirmi A prescindere da quale sia il risultato Della corsa Assolutamente Niente raga Però se vinco io è meglio Vai Eh vabbè Comunque nulla Come al solito ci portiamo a casa La coppa di bronzo Qui Però l'importante è che ci siamo divertiti L'importante soprattutto è che Joseph è arrivato sotto Quindi non è arrivato primo Non ha la corona Quella è l'importante La cosa più importante di tutti Vabbè Nulla signori Noi vi ringraziamo per essere stati qui E quindi vi invitiamo ovviamente A lasciare un mi piace Trovate in descrizione Il link dei due ragazzuoli Trovate anche il loro video Quindi se non mi piace Commenti Iscrivetevi Condividete Ci diamo appuntamento Al prossimo video Ciao raga Ciao 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 ragazzi